Il tutorial di Bybit completo. Benvenuto e benvenuta, io sono Ivan, sei sul canale Crypto Learners. Oggi ti vogliamo parlare e vogliamo portarti alla conoscenza della piattaforma che noi utilizziamo da praticamente un sacco di tempo. Avrai notato che Bybit è diventata sponsor di, parliamo di Bitcoin, quindi è giunto il momento di fare un tutorial completo e spiegare a te che sei nuovo o nuova o che non hai mai utilizzato Bybit, che cosa puoi trovare in Bybit. Noi la riteniamo per un sacco di motivi meglio di altre piattaforme di trading e te ne voglio elencare tre. Gli altri li vediamo direttamente nel tutorial. Il primo, nei momenti di alta volatilità, nei momenti in cui ci sono grandi sbalzi, quindi grande volume di trading, spesso e volentieri capita che non si riesce ad entrare nelle piattaforme e non si riesce a inserire ordini di acquisto e di vendita. Bybit ha una piattaforma molto stabile che esegue gli ordini con una velocità pazzesca e ha un'alta liquidità, quindi stabile soprattutto se la usi da PC ed è una cosa che secondo noi è assolutamente vantaggiosa. La seconda cosa vantaggiosa che ha Bybit, specialmente in una fase di bull run come in questo momento, questo tutorial è registrato i primi di aprile 2021, quindi magari poi lo vedrai in una fase bear è che possiamo usare i inverse perpetual contract, sono contratti perpetui e sono inversi. Che cosa significa? Che come collaterale non avrai il US dollar o gli euro, ma avrai direttamente un collaterale in crypto, quindi BTC, Ethereum, Litecoin e tante altre, che secondo noi è un vantaggio e ti aiuta nella fase bull run a poter accumulare, se fai le operazioni nella giusta direzione, a poter accumulare più Bitcoin, prendiamo Bitcoin. La terza, e non è l'ultima ma è proprio la terza che a noi è piaciuta parecchio, hai la possibilità di assicurare parte o la totalità dei tuoi trade. C'è un'assicurazione, c'è un costo da pagare per un determinato limite di tempo, puoi assicurare i tuoi trade, questa è qualcosa che poche altre piattaforme, se non nessuna altra piattaforma permette. Quindi questo tutorial sarà un po' lungo perché andiamo a toccare tutti i dettagli, qua sotto ti lasciamo la timestamp, in modo tale che tu puoi andare a vedere al minuto tot 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 che cosa ti interessa. Basta, altre cose possiamo entrare direttamente nel tutorial. Prima di iniziare ti dico che se non sei ancora iscritto, iscritta a Buybit e vuoi registrarti utilizzando il link che trovi qui sotto. Tu otterrai 10 dollari una volta che hai depositato il, hai fatto il tuo primo deposito e la tua prima operazione. Noi, è giusto dirlo, otterremo anche noi 10 dollari e in più tu avrai la possibilità di guadagnarne altri 90 che si chiamano coupon facendo una serie di operazioni o addirittura altri 590 se poi anche tu ti metterai a distribuire Buybit alle persone che conosci via mail o come preferisci. Quindi rimani lì fino alla fine, ci vediamo poi alla fine del tutorial. Guardatelo tutto perché è assolutamente una piattaforma che noi consigliamo a chiunque, nuovi e non nuovi. Ciao! Ed eccoci qua a questa prima sessione del tutorial completo di Buybit. In questa prima sessione vediamo chi è Buybit, come ci si registra il centro ricompense e il programma referral. Quindi iniziamo subito innanzitutto da chi è Buybit. Buybit è un'azienda che ormai è stata fondata a marzo del 2018, quindi ha compiuto abbondantemente tre anni. È uno degli exchange di derivati di criptovaluta con la più rapida crescita appunto di questi ultimi tre anni. Ci sono circa già 1.600.000 utenti registrati a Buybit e hanno sicuramente, sono una tra le piattaforme in più rapida crescita. Questi sono i prodotti che si possono tradare in Buybit, ma lo vediamo poi nel dettaglio in un'altra sessione. La squadra, ovvero chi sono gli esperti che hanno costruito, ho pensato a questa piattaforma, a questo progetto, vengono dall'investment banking, sono degli utilizzatori ovviamente di blockchain appassionati del settore. La visione di Buybit è quella di offrire a noi trader e quindi anche a te un'esperienza facile, semplice, lo noterai se deciderai poi di registrarti a Buybit, che è tutto molto facile, è tutto molto chiaro, non c'è niente che scappa, è tutto molto chiaro, è tutto molto facile da capire. Qui poi c'è perché fare trading con noi, ci sono una serie di spiegazioni, ma poi questo lo guardiamo sicuramente nel tutorial. Una delle cose che a noi ci ha colpito, come dicevo proprio all'inizio, è questo sistema, motore di corrispondenza, non preoccuparti mai dei sovraccarichi, il nostro motore di accoppiamento ultraveloce. Questa è una cosa che noi abbiamo notato e riteniamo assolutamente importante, anche nei momenti di alta volatilità, la piattaforma è sufficientemente stabile. Una volta che decidi di registrarti a Buybit per controllare un po' la piattaforma prima di fare il tuo deposito, è super facile, dal link che trovi qui sotto ti porterà direttamente a questa pagina, creare un account, hai la possibilità di mettere la mail e la password, quindi la parola d'ordine viene tradotta così, oppure fare la registrazione con il telefono, sempre con una password, a me mette 034 di default perché sono in Spagna. Registrati, viene inviata una mail da confermare al nostro indirizzo mail che abbiamo scelto, confermato l'indirizzo mail possiamo entrare tranquillamente. Qui in alto e in cima avete la possibilità di scaricare con questo QR code direttamente l'app oppure si può andare su Google Play o sia per Android che per Apple. Al momento non abbiamo ancora la lingua italiana, però io ad esempio sto usando Google Chrome e traduco dall'inglese all'italiano. Come ti ho detto in apertura in questo centro premi hai la possibilità di una volta effettuato il tuo primo deposito di ottenere degli altri bonus che vengono chiamati coupon e lo trovi nel centro premi, quindi vediamoli velocemente insieme per i nuovi utenti, grande ricompensa 50 dollari per il primo deposito entro 48 ore, poi leggiamo quali sono le condizioni o 10 dollari per il primo deposito dopo le 48 ore, deposita in Bitcoin se hai già Bitcoin e otterrai altri 5 dollari, se segui Bybit sui social ti daranno altri 5 dollari, offerte lampo sono se sei un trader attivo affetto almeno uno scambio quindi dei trade per 7 giorni consecutivi e ricevi 5 dollari, qui c'è un altro deposito totale fino a un Bitcoin e ti danno altri 20 dollari, utilizza, acquista un'assicurazione reciproca su Bitcoin USD sul sito Bybit, solo disponibile su PC e ottieni altri 5 dollari. Usa la funzione Take Profit e Stop Loss che noi altamente consigliamo almeno una volta e avrai altri 5 dollari, nuove coppie di trading, almeno negozia una volta un contratto perpetuo USD contro altre coppie che non siano BTC USD e ottieni 5 dollari. Come hai visto hai la possibilità di generare altri guadagni da questi semplici coupon. Programma di riferimento questo è fino a 500 dollari ecco perché all'inizio ti dicevo più 95 più 90 dollari e addirittura fino a 600 per selezionare per ogni segnalazione andata a buon fine tu e il tuo amico al quale segnalerai Bybit riceve un bonus di 10 dollari, hai anche la possibilità di vincere premi aggiuntivi fino a 500 dollari, bisogna fare degli sforzi, bisogna fare un tot numero di volumi, non entriamo nel dettaglio però una volta che sarai registrato li potrai vedere assolutamente tu. Vediamo subito le condizioni che per accedere ai cuponi, i coupon possono essere utilizzati solo per compensare la commissione di negoziazione per i contratti perpetuo e future a meno che non venga specificata in un'altra data. Tutti i coupon sono validi per 60 giorni dopo essere stati richiesti, i buoni non possono essere ritirati. Il primo buono di 50 dollari che abbiamo visto che si chiama Big Rewards in inglese può essere richiesto solo dopo aver effettuato il primo deposito di 0,1 BTC o 3 Ethereum o 1370 EOS o 10700 XRP o 6.000 dollari. Riceverai un coupon di 50 dollari nella criptovaluta del tuo primo deposito se effettui il primo deposito entro 48 ore dalla data di registrazione con Bybit o un coupon da 10 ore da 10 dollari se ti registri dopo le 48 ore. Su questa pagina che ti lascio qua sotto per vedere le termine e condizioni ricordati che sarà in inglese dovrai tradurla, puoi leggere assolutamente tutto, è cosa che ti consigliamo in modo tale che sei preparato a sfruttare tutte le offerte che Bybit ci mette a disposizione. Vediamo il programma referral, questa può essere una cosa che ti interessa o magari no, hai la possibilità appunto di regalare 10 dollari, ricevere tu 10 dollari quando segnali Bybit ai tuoi amici. È super facile all'interno della piattaforma o anche in questa pagina hai invio tramite QR code oppure qui ti mette addirittura il tuo reflink che è questo codice di riferimento ma qua te lo mette esteso in modo tale che lo puoi copiare e inviare ai tuoi amici, addirittura lo puoi copiare da qui e ti consiglio di utilizzare il nostro tutorial, mandagli il link di registrazione e il nostro tutorial così che le persone che inviti a Bybit sapranno e conosceranno tutto quello che possono conoscere e devono conoscere della piattaforma. Qui sotto avrai tutta la cronologia dei referral e qua anche qui ci sono domande e risposte frequenti. Termine e condizioni molto facile, molto semplice non sono 50 pagine ma è una semplice pagina da leggere. E concludiamo questa prima sessione dicendoti che se hai un blog, un canale YouTube o stai pensando di avere un canale YouTube e promuovere Bybit puoi diventare addirittura un affiliato quindi aumenti i tuoi profitti introducendo i traders a Bybit quindi se hai una comunità di traders o vuoi far conoscere Bybit è molto molto semplice c'è la possibilità di fare candidati oggi per condividere i profitti con Bybit sulle operazioni dei tuoi clienti. Bybit esaminerà la richiesta una volta approvato riceverai un link di riferimento univoco e da condividere con il tuo pubblico. Promuovi il tuo collegamento personalizzato su articoli, social media e altre forme di contenuto e guadagni a commissione a vita per ogni cliente attivo. Questo è un programma che ti dà una parte, una percentuale di fee, di commissioni che le persone che inviti spendono in Bybit per acquistare e vendere quindi tu percepirai una parte di queste commissioni che è strutturata in questo modo. Vincerai non è il termine corretto però otterrai un reddito mensile dai tuoi trader diretti che segnali un 30 per cento sulle commissioni e se loro affilieranno delle altre persone addirittura 10 per cento sui sub affiliati. Molto semplice, non sono grandissime cifre ma se hai un gruppo di persone che fa trading perché no? Oltretutto le fee di Bybit, lo vedremo poi durante il webinar, sono anche più basse rispetto a tante altre piattaforme quindi perché no invitare i tuoi amici traders a usare Bybit. E ora passiamo alla seconda sessione ed eccoci alla seconda sessione di questo tutorial completo di Bybit. In questa seconda sessione vedremo la sicurezza, l'introduzione e regole dei contratti disponibili e le fee. Partiamo dal fatto che abbiamo l'applicazione, lo possiamo scaricare dall'Apple Store o dal Google Play, questa non me l'ha tradotta, comunque poco da tradurre, è un'applicazione molto facile, molto intuitiva, io la uso quotidianamente, super facile con tutte le sicurezze possibili e immaginabili. Costruire la fiducia attraverso la trasparenza, gli interessi ai nostri commercianti vengono prima di tutto, quindi servizi di assistenza 24 su 24, piattaforma stabile come abbiamo già detto prima, questo è quello che ci interessa prima di andare a vedere i contratti. Sicurità, sicurezza e garanzia. Sicurezza garantita. La nostra priorità è salvaguardare i tuoi fondi. Goditi la massima protezione con la nostra conservazione dei fondi al 100% nei nostri cold wallet multifirma. I tuoi fondi sono al sicuro con il rigoroso processo di prelievo di Bybit utilizzando la nostra funzione di firma offline. E prima di addentrarci è stato riconosciuto già Bybit da più di 300 importanti aziende, ha in questo momento una quotazione di 4.9 5 stelle, quindi sono più di 50.000 le opinioni degli utenti, assolutamente una piattaforma consigliata. Qui ci sono delle promozioni, tutti i dati, tutte le informazioni vengono ricevute da Chainlink, quindi Chainlink fa poi da fornitore di questi dati e di queste informazioni. Quindi cominciamo vedendo quali sono i tipi di contratto che abbiamo a disposizione. Inverse, Perpetual, Contral, che dopo vediamo come sono e cosa sono, BitcoinUSD, EthereumUSD, EOSUSD e XRP, quindi RippleUSD. Mentre i Regular Perpetual Contract, i contratti perpetui regolari, sono Bitcoin contro dollaro, Ethereum contro dollaro, Bitcoin Cash contro dollaro, Link contro dollaro, Litecoin contro dollaro, Tezos contro dollaro, ADA contro dollaro, DOT contro dollaro e Uni contro dollaro. Poi ci sono i futures inversi e sono BitcoinUSD 0.625, quindi la scadenza, e BTCUSD 0.924, quindi anche qua con scadenza. E iniziamo a leggere le regole. Ovviamente questo link te lo lascio qua sotto, puoi leggere con calma, ricordati sempre di tradurlo. Partiamo da USDT Perpetual, sono dei contratti perpetui. Il contratto perpetuo è un prodotto derivato simile ai futures, è diverso dai futures in questo. Prima di tutto non ha scadenza, né data di regolamento, vuol dire non c'ha un settlement, quindi un prezzo che chiude durante la giornata ma va 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Imita un mercato spot basato su immagini. Il prezzo di negoziazione è vicino al prezzo dall'indice spot dove il prezzo di negoziazione è ancora, è ancorato al finanziamento. Lo avrei già capito da queste prime righe, non acquistiamo direttamente Bitcoin o altre crypto, acquistiamo un contratto legato a queste crypto con un prezzo suo che è molto vicino al prezzo reale spot e poi lo vediamo prezzo di mercato e il prezzo del perpetual del contratto. Meccanismo di negoziazione è il contratto perpetuo. Quando si negozia un contratto perpetuo su Bybit, a parte il principio del trading con margine, i trader dovrebbero essere consapevoli di, quindi tu che stai seguendo questo tutorial, devi essere consapevole di che il market price, ovvero il market price, viene utilizzato per attivare la liquidazione. Il market price è un prezzo che viene raggiunto prendendo una serie di prezzi su diverse exchange che creano questo market price. Il margine iniziale, il margine di mantenimento che cosa sono? Il margine iniziale determina il margine da utilizzare e il margine di mantenimento determina il prezzo della liquidazione. Voi potete aumentare o diminuire questo margine di mantenimento per mantenere attiva la vostra operazione. Finanziamento, la commissione di finanziamento verrà direttamente scambiata, comunemente conosciuta come funding rate, direttamente tra gli acquirenti e venditori ogni otto ore. Quando il tasso di finanziamento è positivo, le posizioni lunghe, quindi long, pagano le posizioni corte, short. Le posizioni lunghe pagano le posizioni corte, quindi avremo un tasso di finanziamento in questo caso positivo. Quando il tasso di finanziamento è negativo, le posizioni short, quindi in teoria sono in prevalenza, pagano le posizioni long, le posizioni lunghe. I trader pagheranno o riceveranno una commissione di finanziamento solo se detengono una posizione al timestamp del finanziamento. Alle 00 UTC, alle 8 UTC e alle 16 UTC. Spesso e volentieri se fai trading o farai trading noterai che vicino a questi orari ci sono una serie di movimenti nei prezzi perché tante persone chiudono le proprie operazioni prima della scadenza, quindi per non pagare fee che incidono parecchio sul balance. Il prezzo indice. Il prezzo indice rappresenta il prezzo di consenso di mercato dell'attività sottostante, derivato da una media ponderata di più quotazioni di borsa spot, aggiustate in base all'usabilità dei dati e ai fattori di aggiustamento del peso. Il test dell'usabilità dei dati include la tempestività e la validità dei dati stessi. Il prezzo quotato che fa di riferimento che ha superato il test di usabilità sarà ponderato da un peso corretto in base al volume degli scambi. In definitiva, il prezzo dell'indice di ciascuna coppia viene calcolato moltiplicando i prezzi dei vari exchange principali e ha per il suo peso rettificato. Qui avrà la possibilità di vedere i dettagli sul riferimento dell'indice per quanto riguarda USDT. Commissione di finanziamento e qui faccio una piccola parentesi prima di leggere. Controllate perché Bybit in questo momento è più bassa dello 0,03, forse la più bassa in questo momento sul mercato come tassi di finanziamento, comunque leggiamolo così com'è. Commissione di finanziamento, commissione di finanziamento uguale valore della posizione, tasso di finanziamento. Il finanziamento è determinato dal tasso di interesse e dal premio sconto di prezzo. Il finanziamento garantisce che l'ultimo prezzo negoziato in Bybit sia ancorato al prezzo dell'indice di riferimento dove la commissione di finanziamento viene scambiata direttamente tra acquirente e venditore. Bybit non ci mette le mani. Tasso di interesse uguale interesse USDT sono i famosi funding rate. Ogni 8 ore vengono pagate queste o ricevete, dipende se siete long, se siete short, la maggioranza eccetera eccetera. L'attuale interesse giornaliero è di 0,06 e 0,03 per l'interesse attività sottostante. L'intervallo di tasso di finanziamento è 3, una volta ogni 8 ore, l'attuale tasso di interesse è dello 0,01. E questa è una parte importantissima di questo tutorial, la panoramica sul trading con leva. Vi faccio anche qui una premessa, se non sai usare o non hai mai usato il trading con leva, un consiglio che ti diamo noi e ti daranno tantissime persone è vacci con calma perché con la leva si può ottenere tantissimi risultati ma si può anche perdere il proprio capitale in maniera molto rapida. La leva funziona in maniera molto semplice. Il trading con leva consente ai trader di entrare in posizioni più grandi del saldo del proprio portafoglio e inserire anche posizione short, quindi corte. Sia i profitti che le perdite saranno accelerati se un trader scambia più di un X leva. In Bybit, lo vedremo durante il tutorial, abbiamo leve che vanno da 0, da 1 a 20, da 1 a 25, da 1 a 70, da 1 a 50. Quindi se voi usate la leva 1, quindi senza leva, è un trading normale. Se usate una leva per fare trading con leva, le negoziazioni opereranno a margine. Il margine si riferisce alla quantità di capitale richiesta per entrare in una posizione con leva. Faccio un esempio. Se voi avete un bitcoin e fate un'operazione con il vostro bitcoin, il vostro bitcoin sale e scende del 5%, 10%, 50.000, vi troverete un capitale di 45. Sale del 10, 55. Con la leva potete fare una leva per 10, per esempio, il vostro bitcoin diventano 10 bitcoin. Quindi le commissioni che pagate saranno per 10, i movimenti del mercato saranno moltiplicati per 10. Quindi se il bitcoin perde il 7%, voi state perdendo il 70% del valore del vostro portafoglio. Se il bitcoin ovviamente guadagna il 7%, voi starete guadagnando il 70%. Ripeto, rischi altissimi, guadagni possibili più alti. Però fate attenzione ad utilizzare la leva. Fate pratica con leve molto basse e quando avete capito il funzionamento e siete esperti, passate alle leve più alte. Questo altro importantissimo passaggio. Il margine isolato e il margine incrociato. E anche qua faccio un piccolo, una piccola pre. Attenzione, sempre prima di fare ogni operazione, controllare se è un cross margin o isolated margin. Quindi isolato o incrociato. È importantissimo essere sicuri, non fate mai le cose di corsa. Questo deve essere, è super importante. In Bybit i trader possono scegliere tra la modalità del margine incrociato o la modalità del margine isolato. Margine isolato. La perdita massima di una posizione isolata è il suo margine iniziale e il margine extra se lo volete aggiungere. Se la posizione viene liquidata non verrà tratto alcun margine aggiuntivo per la posizione. Voi decidete di mettere in gioco, tra virgolette, o mettere a lavorare un bitcoin, perso il bitcoin, avete perso quel bitcoin. Se voi nel vostro account avete 10 bitcoin e usate il margine incrociato, l'operazione rimarrà aperta e la liquidazione vi porterà all'azzeramento del conto. Quindi altro consiglio, usa sempre il margine isolato fin quando non sai maneggiare bene tutte queste informazioni. I trader possono aggiungere manualmente un'extra margine a una posizione isolata che riduce la leva effettiva risultando un prezzo di liquidazione migliore. Se voi vedete che la vostra operazione sta andando quasi in liquidazione potete aggiungere del margine per evitare ciò. Una volta regolata la leva della posizione tutto il margine entra pubblicato in precedenza verrà reimpostato a zero. Inoltre i trader possono abilitare il ripristino automatico del margine, AMR, per raggiungere margine extra alla posizione quando è prossima alla liquidazione. Minimo margine iniziale a posizione, saldo disponibile sul conto verrà disegnato sulla posizione quando viene attivato l'AMR. È possibile prelevare tutto il saldo disponibile in USDT dal conto trading. Il margine incrociato. Tutto il saldo disponibile in USDT nel conto trading può essere utilizzato sulla posizione del margine incrociato per prevenire una liquidazione. Tutti i profitti e le perdite non realizzati sono condivisi tra tutte le posizioni a margine incrociato dove l'utile non realizzato aumenta il saldo disponibile del conto mentre la perdita non realizzata diminuisce il saldo del conto. Il saldo disponibile può essere utilizzato come margine per aprire nuove posizioni ed è anche l'importo prelevabile dal trader. Quando un trader cambia una posizione dalla modalità margine isolato alla modalità margine incrociato, si detiene contemporaneamente posizioni lunghe e corte del contratto e entrambe le posizioni passeranno alla modalità margine incrociata. Ripeto quello che ho detto in precedenza, perché mettere a rischio tutto il portafoglio quando possiamo decidere noi con il margine isolato quanto vogliamo rischiare per quella determinata operazione. Guardiamo anche gli inverse perpetual, quindi contratti perpetui inversi. Praticamente la prima parte è identica all'altra, quella che abbiamo visto in precedenza, la unica grande differenza è questa, il contratto inverso. Sotto contratto inverso il margine, i profitti, le perdite vengono calcolati e regolati in attività sottostanti come bitcoin e ethereum. Per effettuare un ordine i trader decidono l'importo nell'ordine in usd. Mentre i contratti perpetual, normali, diretti, usate i vostri dollari per effettuare l'operazione, in questo caso con il contratto inverso mettete nell'operazione direttamente come margine o bitcoin abbiamo visto o ethereum o eos o xrp. Quindi la vostra operazione se siete long e voi avete deciso di fare un'operazione long e il prezzo sale, guadagnerete a dal fatto che l'operazione sale quindi voi farete profitto percentuale in base a quello che è la percentuale del cambio, dell'aumento e allo stesso tempo crescerà perché anche il valore del bitcoin che voi state usando, dell'ethereum che state usando, dell'eos che state usando, del ripple che state usando aumenta di valore. Questo è assolutamente più utilizzato durante la fase bull market perché noi non tocchiamo i nostri bitcoin ma li lasciamo lì e usiamo, facciamo un'operazione. Tante volte lo diciamo, fare un'operazione in US dollar, guadagnare 100 dollari ma in quel momento il prezzo è aumentato di 100 dollari, noi andiamo ad acquistare più o meno gli stessi bitcoin. Quindi è utile sapere come funzionano e Bybit ha questi inversi contratti che noi tra virgolette no consigli finanziari preferiamo in un bull market rispetto a un bear market utilizzare rispetto a quelli usdt. Tutto il resto rimane praticamente uguale, contratto perpetua o inverse, però ripeto qua sotto trovate tutte le informazioni, cliccate questo link us contract rules si chiama e potete leggerlo tranquillamente. Vediamo i futures inversi e poi passiamo all'altra parte. Anche questa è una sessione che consigliamo alle persone che sono già a un livello più esperto, i contratti futures, Bybit attualmente offre solo futures trimestrali, il contratto verrà consegnato alle 8 UTC nella data di regolamento. Come funziona? Noi andiamo ad acquistare in questo caso contratti su date che non sono quella di oggi, quella di domani, ma sono date che da tre mesi o sei mesi. Tipo quello che abbiamo a disposizione in questo momento è BTC USD 0625, la data dove è stato emesso l'11 dicembre 2020, la data di regolamento quindi la scadenza e lo dice 0625. abbiamo anche il 0924 in questo momento a disposizione, il 12 marzo 2021 è quando si è potuto iniziare ad acquistare, il 24 settembre è la data di scadenza. Noterete che questi contratti hanno un prezzo diverso rispetto a quello che è il Bitcoin. Quindi si pensa, se voi comprate i contratti long, si pensa che il prezzo vada in quella specifica data a quel determinato prezzo. Però vi do un consiglio, prima di passare ai futures, fate esperienza, fai esperienza con il trading classico e poi passa tranquillamente ai futures. Comunque qua hai tutte le informazioni su come funzionano. Il funzionamento è molto simile rispetto a tutti gli altri. L'unica cosa è che avrai una scadenza del tuo contratto il 25 giugno e il 24 settembre. non è come i perpetual che continuano per sempre il contratto. Futures scade ad una data ben precisa. E rieccoci di nuovo alla terza sessione di questo tutorial completo di Bybit. In questa terza sessione guardiamo la piattaforma, così come la si vede, gli ordini long e short, quindi in questo caso lungo e allo scoperto, gli ordini limite, l'ordine a mercato e l'ordine condizionale. Incominciamo subito da come si vede la piattaforma. Così è come la vedi se sei già cliente Bybit o come la vedrai se deciderai di registrarti. Bybit prende i dati e le informazioni da TradingView che noi utilizziamo in maniera anche separata. Quindi qua hai la possibilità di aggiungere degli indicatori. Partiamo dall'alto sinistra. Abbiamo in questo caso il prezzo del Bitcoin e qui sotto vediamo quali sono in questo caso sono perpetui inversi. Quindi c'è Bitcoin, Ethereum, EOS e XRP. Ok? Quindi io in questo caso lascio Bitcoin. Qui ci dice quanto sta perdendo oggi. Se ci appoggiamo ci dice anche in dollari, quindi 1155. Il massimo che ha raggiunto nella giornata delle 24 ore, il minimo e quanti BTC sono stati tradati nelle ultime 24 ore. Stiamo parlando della piattaforma Bybit. Il grafico lo possiamo vedere a 1 minuto, 5 minuti, 30 minuti, 1 ora, 4 ore, giornaliero, settimanale o mensile. C'è la possibilità di scegliere le candele, c'è la possibilità di scegliere il lineare e come dicevo prima aggiungere degli indicatori. Andando un po' di più sulla destra abbiamo il portafoglio degli ordini. Quelli in rosso sono tutte persone che vogliono vendere una determinata quantità di contratti. Ricordati che qui non si vende lo spot, non si vende il Bitcoin in se stesso, ma si vende un contratto appoggiato al valore del spot del Bitcoin a 58.0303. In questo momento stiamo registrando questo tutorial i primi di aprile, quindi questo è il prezzo 2021. Vedete la quantità e il totale. La quantità è 275.000, cambiano molto velocemente, non riesco neanche a leggerli, va bene. Mentre quello sotto sono le persone che hanno intenzione di acquistare. Quindi al prezzo di 58.003 abbiamo 9.000, 7.000, 8.000 e continua a cambiare. Andando leggermente più sotto vediamo invece quali sono le operazioni effettuate realmente perché quello che vediamo nell'order book, così si chiama, ovvero il portafoglio degli ordini, non sempre vengono tutti eseguiti, ok? Ci sono persone che inseriscono degli ordini e poi li rimuovono. Quindi qui sotto invece nelle operazioni recenti vediamo effettivamente se sono state comprate e quante e allora soprattutto ad un determinato prezzo. 1.70.000 vedete come scorrono in maniera molto veloce. Andiamo ancora, qui abbiamo il prezzo di mercato e qua abbiamo il prezzo che in questo momento ha Bybit. Come potete notare sono leggermente diversi. Questo è un insieme di prezzi provenienti da una serie di exchange, ok? È una media, chiamiamola così. E invece qua abbiamo il prezzo di Bybit che in questo momento è 58039. Uno è segnato in giallo anche nel grafico e l'altro è segnato in verde. Andiamo sulla parte destra, abbiamo gli ordini limite, abbiamo gli ordini a mercato, abbiamo gli ordini condizionali. Qui non so perché non me l'ha tradotto in italiano però poco, poi quando vi appoggiate voi vi uscirà questa dicitura. Comunque lo vediamo insieme adesso. Poi qui sotto abbiamo il pulsantone acquista e questo è il pulsantone per vendere allo scoperto. Quindi andare short, vendere oggi per riacquistare il prezzo ipoteticamente ad un prezzo inferiore, ok? Altrimenti ci stiamo perdendo. Bene, rieccoci. Nel frattempo ho fatto un passaggio ad un account con del credito per farvi vedere degli esempi. Eravamo al ordine limite, mercato condizionale, acquista lungo o vende allo scoperto. Quindi la possibilità di ricomprare più avanti. In questo caso vedete che ci sono anche delle operazioni aperte, ok? Poi vediamo un attimo anche l'assicurazione velocemente. Che è una futures assolutamente interessante che ha Bybit. Andiamo a vedere i take profit e stop loss. Questa è super comoda questa futures che ha Bybit perché mi permette ad esempio questo è un grafico a un'ora. Io ho inserito uno stop take profit qua sotto, ok? Ho la possibilità di spostarlo. Ho la possibilità di spostarlo e voglio metterlo qui dove ha fatto questo minimo ieri pomeriggio, ieri mattina 56.900. Non ci è arrivato oggi, dico ok, posso spostarlo qua e in automatico si aggiorna. Quindi una futures sicuramente interessante quella di poter alzare così in un secondo direttamente dal grafico il proprio stop loss. Andiamo a fare un'operazione. Io non uso mai, quasi mai, anzi mai gli ordini incrociati. Che come abbiamo visto prima utilizzerebbero tutto il saldo che io ho nell'account. Ma uso l'isolato, ovvero solo quello che io, il margine che io voglio dedicare a una determinata operazione. Quindi facciamo un esempio. Io qua posiziono per questo ordine la leva A2. In questo caso non me la farà mettere A2 però è giusto per farvi un esempio. Perché altre operazioni sono con leva A10. Ok questa leva A10, questa di Ethereum, leva A12 e cambierebbe le operazioni, le leve anche per gli altri. Quindi lasciamo benissimo la leva A10. Per farvi questo esempio. Ok attenzione con le leve come abbiamo detto in precedenza. Scelgo di comprare, io ho un saldo di, vediamo, disponibile 0,006 che sono 360 euro. Dico, va bene, voglio comprare 300 dollari in contratti. Ok? Il costo sarà di 0,005. Io ne ho 0,006 quindi posso farlo. E un'altra cosa che io faccio al 90%, 95%, non faccio mai un ordine a mercato. Dopo vedremo anche le descrizioni di ordine limite e ordine a mercato nell'ultima sessione. Però se noi mettiamo un limite, siamo dei liquidity provider. Quindi mettiamo a disposizione la nostra liquidità a un prezzo determinato. E per questo Bybit ci premia con le commissioni. Se noi mettiamo un ordine a mercato, siamo dei liquidity taker e quindi pagheremo delle commissioni. Io metto sempre un ordine limit. In questo caso siamo a 58.130, va bene, 58.124. Acquista. Altra cosa molto bella di Bybit è che prima di fare qualsiasi operazione mi fa un recap. Quindi il prezzo che io ho scelto è 58.127. La quantità sono 300 dollari. Il costo dell'ordine è questo, il valore è questo. Ovviamente avendo una leva per 10 il valore è più alto. Quindi io pagherò commissioni su questo valore. Mi dice già qual è il prezzo di liquidazione stimato che sarà 52.582 eccetera eccetera. Confermare e viene creato un ordine. Ok? Questo è un ordine limit come io amo fare e consiglio vivamente a tutti. Poi c'è l'ordine a mercato. L'ordine a mercato è ancora più semplice però abbiamo delle commissioni da pagare. Perché siamo come stavo dicendo prima liquidity taker. Qui decidiamo solamente la quantità. L'ordine a cui ci verrà acquistato è 58.180. Il primo prezzo a mercato disponibile ci viene acquistato. Ok? Noi facciamo comprare larga. Mi si è bloccato temporaneamente il computer. Comunque apparirà la stessa schermata dicendo ok. Confermare con la liquidazione prevista il numero di contratti. Un po' come abbiamo visto per l'ordine limit. E vediamo l'ultimo ordine che è l'ordine condizionale che si usa. Io spesso lo uso durante quando non sono al computer. Inserisco un ordine condizionale come anche il limite. Però il condizionale magari prima di andare a letto o prima di uscire. Dico ok se il prezzo arriva a questo prezzo lo vado acquistare. Un po' come al limite. Io gli dico dove a mercato o a limite. Scelgo sempre limite per le commissioni. Prezzo di attivazione quando parte e esegue l'ordine. Ho messo 56 mila per farvi questo esempio. Tanto qua segue bloccato da prima. La quantità 300 dollari che sono quelli che abbiamo a disposizione. E anche qui diamo al bottone verde che in questo momento non è disponibile. O se stiamo shortando il bottone rosso. Altre cose da dirvi su questa parte della piattaforma. Ovviamente queste sono operazioni aperte. Le quantità. La leva. Il prezzo di acquisto. Il prezzo di liquidazione. Il guadagno che stiamo facendo in questo momento. 195 e 24. Stop loss. Stop gain. Il prezzo. Quello che è stato pagato di commissioni fino ad oggi. Ok. Qui abbiamo contratto. La quantità. Il valore. Prezzo di entrata. Prezzo di liquidazione. Margine. Margine che abbiamo messo. Training stop. Il securo. Il securo sarebbe l'assicurazione. Adesso vi faccio vedere come si può acquistare un'assicurazione. Bene. Proseguo anche se non è tradotto in italiano. È abbastanza facile. Il quanto io voglio assicurare. Il 25% io ho 2000 contratti. Lo vedete qua. Quindi il 25% sono 500. Il 50% sono 1000. Il 75% 1500. O il totale. Dei contratti. 2000. Ovviamente. Giocando. 25%. 500 contratti. Per due ore. 12 ore. 48 ore. Ovviamente. Il prezzo. Il prezzo. Dell'assicurazione. Cambia. Io metto. Il voglio assicurare. Il 100%. Per 48 ore. Il prezzo che dovrò pagare. Per l'assicurazione. È 0.0. 10. 18. 90. E continuiamo. Vedendo appunto. Le ultime. Le ultime. Le ultime cose. Di questa. Di questo tutorial. Completo. Della piattaforma. Bybit. Stavamo. Giustamente. Parlando. Dell'assicurazione. Introduzione. Della mutua assicurazione. Assicurazione. Reciproca. Uno strumento. Di gestione del rischio. Per i contratti perpetui. I trader di Bybit. Che detengono posizioni. In contratti perpetui. Possono acquistare. Un'assicurazione. Reciproca. Per coprire. Potenziali perdite. I premi pagati. Verranno accreditati. Eccetera. Eccetera. Altra cosa. Che volevo. Devedere. Con voi. Prima di. Lasciarci. Andiamo. Un po' più. Su. Commissioni. Di negoziazione. Bybit. Può ad evitare. Una commissione. di negoziazione. Quando viene eseguito. Un ordine. La commissione. Di negoziazione. Sostenuta. Al momento. L'esecuzione. Di un ordine. Viene detratto. Dal saldo. Del portafoglio. E non. Influirà. Sul margine. Iniziale. Dell'ordine. La commissione. Di negoziazione. Se la commissione. Di negoziazione. Negativa. A meno. 0.025. Per i fornatori. Produttori. Di liquidità. Quindi. Ordini. Limit. In altre parole. I trader. Ricevono commissioni. Di negoziazione. Come sconto. Dalla piattaforma. Se invece. La commissione. Negoziazione. È positiva. 0.075. Per i consumatori. Acquirenti. Di liquidità. Quindi. Noi siamo. Dei liquidi. Taker. Portiamo. Via. Liquidità. La liquidità. Perché acquistiamo. A qualsiasi prezzo. Non mettiamo. La nostra liquidità. Ma portiamo. Via liquidità. Dall'order book. L'ordine. Viene eseguito. Immediatamente. Riduce. La profondità. Del mercato. Si chiama. Market order. In altre parole. I trader. Pagano le commissioni. Di trading. Alla piattaforma. Vediamo ancora questa parte. Poi chiudiamo. Cos'è. Definizione. Dell'ordine limite. L'ordine limite. Viene utilizzato. Per specificare. Il prezzo di offerta. Più alto. Quindi. Il prezzo di domanda. Più basso. Che un trader. Disposto. Ad accettare. I trader. Utilizzano. Questo tipo di ordine. Per ridurre. Al minimo. I costi. Di negoziazione. Velostra. Consigliamo. Mentre l'ordine. Potrebbe. Non essere eseguito. Se il prezzo. Dell'ordine. Al di fuori. Del mercato. Che cosa significa. Se noi. Scegliamo. 1058. 127. Come avevamo scelto. Prima. E. Il prezzo. Arriva a 58. 128. L'ordine. Non viene eseguito. Esistono. Tre tipi. Di ordini. Di opzioni. Per gli ordini limite. Good till. Canceled order. Rimarrà. L'ordine. Attivo. Fino a quando noi. Non lo cancelliamo. Quindi rimarrà in vigore. A tempo indeterminato. Fino a quando non sarà. Completamente. Eseguito. O annullato. Immediato. Immediato. O. Canceled order. Deve essere compilato. Immediatamente. Al prezzo limite. O. Solo. Migliore. Se l'ordine. Non può essere evaso. Immediatamente. Completamente. La parte. Non verrà evasa. E verrà. Annullata. Kill. Fill or kill. È un ordine. Che deve essere. Immediatamente. Eseguito. Interamente. Al prezzo limite. O. Il migliore. In caso contrario. Verrà. Totalmente. Annullato. Non sono consentiti. Quelli. Riempiti. Parzialmente. Poi c'è. L'ordine. Post. Only. L'ordine. Post. Only. Verrà. Eseguito. Sul mercato. Come operazione. Di acquisto. E quindi. Guadagnerà. Uno sconto. Il produttore. Una volta. Eseguito. L'ordine. Post. Only. Verrà. Automaticamente. Annullato. Se può essere. Eseguito. Se può essere. Eseguito. Immediatamente. Quindi. Bisogna mettere. Un prezzo. Che non. Può. Essere. Eseguito. Immediatamente. Solo. Se il prezzo. Raggiunge. Quel determinato. Valore. Ordine. Di mercato. L'ordine. Verrà. Eseguito. Immediatamente. I propri ordini. L'ordine. Verrà. Eseguito. Immediatamente. Al miglior prezzo. Disponibile. Nel book. Un ordine. Mercato. Di grandi dimensioni. Può avere un impatto. Sul mercato. E aumentare. I costi. Commerciali. Ipotizzati. Che voi. Volete. Comprare. 500. Bitcoin. A qualsiasi prezzo. Quindi con un ordine. Market. Vengono presi. Qualsiasi tipo di offerta. Il prezzo cambia. Radicalmente. In quel momento. L'ordine condizionale. L'ordine condizionale. Un ordine con limite. O un ordine. A mercato. Che ha effetto. Quando. Viene soddisfatto. Una condizione specifica. L'ordine condizionale. Può essere attivato. Da. Market. Price. Last Traded. Price. O Index. Price. Gli ordini. Take Profit. E Take Loss. Gli ordini. Take Profit. E Stop Loss. Scusate. Scusa. Sono strategie di uscita. Che i trader posizionano sulle posizioni. Per garantire uscite tempestive. E automatiche. Noi vi consigliamo. Assolutamente. Di usare. Sia i Take Profit. Ma soprattutto. Iniziare. E usare. Gli Stop Loss. Che evitano. La perdita. Di grandi capitali. Voi potete decidere. Per ogni operazione. Quanto. È il vostro rischio. Quanto. È il vostro margine. Dove. Volete. Prendere beneficio. Ma soprattutto. Dove. Volete fermare. L'operazione. Nel caso. In cui. Va. Incontro. A quello. Che voi. Avete scelto. Un ordine. Stop Loss. Viene utilizzato. Come strumento. Per limitare. La perdita. Di una posizione. Bybit. Offre i seguenti. Tre tipi di ordine. Take Profit. E Stop Loss. Ordine. Mercato. Ordine. Mercato. Stop Loss. Sono un po' uguali. A quelli che abbiamo sopra. Quindi abbiamo concluso. Con tutte le informazioni. Di questo. Tutorial. Super completo. Di Bybit. E. Ci vediamo. Per. Salutarci. Benissimo. Ed eccoci qua. Finito. Il nostro. Tutorial completo. Su Bybit. Siamo sicuri. Di averti dato. Tutte le informazioni. Che eravamo in grado. Di darti. In questo momento. Mettici. Un bell'icone. Su questo video. Condividilo. Con altre persone. Che sai. Che può essere utile. Bybit. Utilizzalo. Eventualmente. Se vuoi condividere. Con altre persone. E vuoi anche tu. Guadagnare. Come hai visto. Nella parte. Referral. Del video. Quando le persone. Si registrano. Puoi utilizzare. Tranquillamente. Il nostro video. Per dargli. Un'idea globale. Di quello. Che è Bybit. I vantaggi. Che Bybit. Offre. Prima di salutarci. L'icone. Sottoscriviti al canale. Ricordati. Di segnare. All. Che vuoi ricevere. Tutti gli aggiornamenti. Perché ogni tanto. Ultimamente. Facebook. Si dimentica. Di mandare. Le notifiche. Che sono stati caricati. I nuovi canali. Mentre se marchi. Se schiacci. All. Le riceverai tutte. Poi deciderai. Tu quale guardare. E quale meno. Ti interessa. Ricordati. Prima di andare via. Che. Bybit. È una piattaforma. Di trading. E. Ha la possibilità. Di usare. Leve finanziarie. Leve finanziarie. Possono portarti. Grandi benefici. Ma possono portarti. Anche. Rischi più alti. Quindi sempre. Cauto. O cauta. Se sei soprattutto all'inizio. Ad utilizzare. Leve. Finanziari. Chi è più esperto. Le usa. Addirittura. Per due. Per tre. Non. Esagerare. Con leve. Per venti. Per trenta. Per cinquanta. Che. Quello che puoi fare. È solamente. Mettere. A rischio. Il tuo capitale. Una volta. Che sarai. Esperto. Esperta. Potrai. Prendere. Un po' più. Di confidenza. E decidere. Tu. Che cosa fare. Con il tuo. Danaro. Ciao. Grazie mille. E ci vediamo. Ai prossimi video. Bye.